Il sistema infrastrutturale e trasportistico sta diventando insostenibile e rischia di impattare in maniera negativa sul nostro territorio e sulle nostre vite. Smart Border è un progetto interreg tra Italia e Svizzera che nasce con l'esigenza di favorire una mobilità sostenibile, intelligente e innovativa che superi i confini tra le nostre due nazioni, migliorare la mobilità dei cittadini trasfrontalieri e non, favorendo la diffusione di modalità di trasporto integrate e a basso impatto ambientale. Discutere e creare un sistema ecosostenibile che migliori la modalità dei nostri spostamenti e preservi l'altissimo valore paesaggistico delle nostre risorse naturali. Il nostro impegno mira a sviluppare soluzioni innovative nella regione dell'Alto Lago Maggiore e Lago Ceresio Occidentale. A favorire questo saranno le comunità direttamente interessate, ovvero la città di Luino e il comune di Gambarogno, principali attori del progetto Smart Border, che ha messo in campo soluzioni operative come il Park & Ride in prossimità della stazione ferroviaria di Luino, un parcheggio di interscambio che consentirà ai dipendenti trasfrontalieri di abbattere i costi di mobilità e al territorio di favorire una modalità di trasporto pubblico integrato e sostenibile. Ma non solo, Smart Border vuole interagire attraverso diverse manifestazioni di interesse con tutta la comunità. Il progetto, infatti, coinvolgerà diversi attori, aziende, amministrazioni, enti locali, scuole, cittadini. Tutti saranno chiamati a rispondere ed apporre il proprio contributo per creare una cultura eco-friendly e lasciare in eredità alle nuove generazioni un ecosistema che rispetti l'ambiente e salvaguardi le nostre radici.